La testimonianza della loro vita ci indica il modo in cui hanno ricevuto e risposto alla chiamata di Dio. Svolgendo la loro missione di misericordia, sono stati condotti a realizzare il progetto di santità. Non c'è bisogno di nulla, soltanto il nostro desiderio di volerli incontrare. Lo possiamo fare con calma, lo possiamo fare con tranquillità, senza fretta. Vogliamo farlo però in spirito di fede e con profonda preghiera. Pertanto, nel nome del Signore, andiamo in pace. E' sempre con noi, oh Signore. Dicevole allo Spirito Santo, come era nel principio. Ora e sempre, nei secoli e secoli di fama. Glorioso Arcangelo San Michele. Oh Figlio, lodate Dio, onore trino Signore, lodate Dio. Ahi! Oh, sì, ho un bel, oh. Ahi, oh. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioveremo per tutti i nostri giorni. Santa Maria, Madre del Dio, prega per i nuovi creatori.